Imparato, missione compiuta per quanto riguarda questa partita, però c'è ancora da lottare, ci sono altri due atti? Sì, sicuramente, quello è il massimo che potremmo fare oggi l'abbiamo fatto, portando a casa questi tre punti. Adesso bisogna staccare, bisogna azzerare tutto perché ci giochiamo un'intera stagione e quindi bisogna stare sul pezzo, essere concentrati perché questa salvezza vale come un campionato. Hai ritrovato il posto da titolare dopo un'assenza anche per problemi fisici, come stai? Sicuramente non giocavo da un po' di tempo, mi ha fatto piacere tornare, erano già un paio di settimane che stavo meglio, ho fatto il massimo, sono contento di quello che ho fatto, ma l'importante era vincere, anche se poi non è valsa la salvezza, ma siamo contenti. Tu non eri a Teramo in occasione delle due partite di campionato con il Lumezzane, però cosa ti aspetti, una squadra questa abituata a lottare per salvarsi, squadra scorbutica? Sì, sicuramente, è sempre un play-out, sicuramente abbiamo un piccolo vantaggio, sulle due partite essendoci piazzati meglio, ma sappiamo... Si può giocare però per lo 0-0? No, sicuramente no, sarebbe un errore, insomma, però ripeto, credo che il mood di queste ultime settimane sia stato quello incentrato sull'equilibrio, e non dobbiamo nemmeno snaturarci. Io credo che se rimaniamo concentrati e tutti insieme vogliamo lo stesso obiettivo, anche con l'aiuto dei tifosi, che capisco, possono essere sicuramente rammaricati, dispiaciuti per come sia andata quest'anno, tutti ci aspettavamo di più, però adesso c'è da lottare con i denti per salvare questa categoria e noi abbiamo bisogno anche di loro.